Descrivici un po' l'assist per il gol di De Gini. Sento il recupero palla, lì verso l'angolo, poi distinto l'ho messo addietro, sapendo che lui fosse arrivato e da lì è nato il gol. Ecco, nel secondo tempo potevate arrotondare il risultato, è stato poco cinico sottoporta, insomma dove bisogna migliorare? Due miliardi sottoporta, oggi purtroppo è andato così, abbiamo vinto, l'importante è quello, bisogna comunque soffermarsi del genere, comunque in settimana ci lavoriamo, essere pronti per la domenica prossima e fare il gol finalmente. A parte gli errori sottoporta possiamo dire che hai messo in serie a difficoltà la difesa del Mancona con i tuoi scatti, il tuo pressing costante? Possiamo dire di sì, li ho messi un po' in difficoltà, ma l'amici mi ha detto di fare questo tipo di gioco, io l'ho fatto e devo dire che funziona. Ecco, ora c'è il derby con il Chieti, ti vuoi sbloccare al derby? Posso sbloccare il medico, bella domanda, vedremo domenica. Intanto mister pomante, ironico. Dipende se mi fa giocare, niente, se mi fa giocare segno, se no quando entro segno. Ecco, una menzione per il pubblico, sei uscito tra gli applausi al momento della sostituzione, e ti sostengono sempre. Sì, devo dire che mi ha fatto molto piacere uscire tra gli applausi. Solo, come dire, li ringrazio comunque. È stato veramente qualcosa di speciale per me.